Quasi una settimana fa Amadeus ha annunciato i concorrenti in gara a Sanremo 2024 e tra i grandi esclusi c'è stato indubbiamente il nome di Albano Carrisi. Il cantante ha deciso adesso di rompere il silenzio e dalle sue parole si è potuto notare un certo fastidio per la decisione del direttore, anzi, ha dato proprio una sua versione dei fatti su quanto sarebbe successo nella selezione dei brani. E non sappiamo se il conduttore vorrà replicare. Amadeus a Sanremo 2024 non ha scelto Albano Carrisi, ma ha preferito puntare su questi 27 artisti. Fiorella Mannoia, Jolie, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sed, Diodato, Il 3, Renga Neck, San Giovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro. Irama, Rose Villan, Mahmood, Loredana Bertè, The Colors, Big Mama, Gali, Annalisa, M.R. Reyn, Maninni, Ricchi Poveri. E l'artista dice. Dunque, il direttore artistico Amadeus è stato costretto ad ascoltare una critica feroce nei suoi riguardi dopo la sua decisione di escludere da Sanremo 2024 la voce di Albano Carrisi. Lui era determinato a partecipare tra i concorrenti della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, ma il presentatore Rai ha optato per altri nomi di spicco. E il cantante pugliese ha protestato, intervenendo alla trasmissione radiofonica un giorno da Pecco. Albano ha quindi esclamato, la mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po' di dispiacere c'è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone. Però io non mi arrendo mai.